Terra Amara La tragedia colpisce Mujgan, che muore in un terribile incidente aereo. In Terra Amara, le anticipazioni rivelano un evento sconvolgente. Mujgan, diretta a Istanbul, perde tragicamente la vita in un incidente aereo. La madre di Kerem e tutti gli altri passeggeri non sopravvivono alla Shagura, una svolta inaspettata e devastante nella serie. Nel frattempo, Fekeli e Lutfi, ignari della tragedia, celebrano un lieto evento. Fikret aveva pianificato di chiedere in matrimonio Mujgan. La notizia della tragedia giunge in un momento di felicità, gettando un'ombra di dolore e incredulità. Inizialmente incerto sul da farsi, Fikret, dopo aver parlato con Mujgan, decide di lasciare Adana per iniziare una nuova vita con la donna che ama, mettendo da parte i suoi piani di vendetta. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Mujgan, prima di partire, lascia un biglietto per Fekeli, e mentre prepara la valigia, prende una foto di Demir e Umit insieme e la mette nella borsa, un gesto che segna una svolta emotiva. Contemporaneamente, Fikret e Umit hanno un acceso confronto. Durante la discussione, Umit perde il controllo e cade dalle scale. In un momento cruciale, Fikret sceglie di lasciare la scena senza prestare soccorso, in preda a un conflitto interiore tra la vendetta e il desiderio di un nuovo inizio. Infine, Fikret incontra la madre di Kerem, che Glee suggerisce di evitare Istanbul o Ankara, temendo che Fekeli possa cercare suo nipote. Questo incontro segna una svolta decisiva per il personaggio di Fikret, che si trova di fronte a scelte difficili che cambieranno il corso della sua vita. La coppia decide di viaggiare prima verso Mersin, per poi proseguire verso la Francia e infine raggiungere la Germania. Mujgan, esprimendo il suo senso di colpa per lasciare il paese in quel modo, trova conforto nelle parole di Fikret, che crede che Fekeli alla fine la perdonerà. Fikret pianifica di chiamare suo zio una volta arrivati in Germania, per discutere e risolvere la situazione. Con grande affetto, Fikret solleva il piccolo Kerem e chiede a Mujgan se è pronta a partire con lui per formare finalmente una famiglia. Mujgan è piena di gioia nel vedere l'uomo che ama e suo figlio insieme. Tuttavia, il loro viaggio prenderà una svolta inaspettata e tragica. Contemporaneamente, Demir si ritrova a fronteggiare le conseguenze delle azioni di Fikret, venendo accusato e imprigionato per aver ferito gravemente Umit, nonostante non sia il vero responsabile dell'accaduto. Mentre si trovano in un hotel a Istanbul, Fikret, Mujgan e Kerem sono ignari degli eventi esterni. Il giorno seguente, mentre Fikret si allontana dall'hotel per raccogliere i fondi necessari per il viaggio, Mujgan legge sul giornale l'accaduto a Umit. Preoccupata, chiama l'ospedale per informarsi sulle condizioni del medico e scopre che Umit è in condizioni critiche e che Demir è il principale sospettato, arrestato e incarcerato. Tuttavia, Mujgan sa che Demir non può essere il colpevole, poiché prima di lasciare la città con Fikret era andata a trovare Umit, trovandola distrutta dal dolore causato dall'abbandono di Zuleya. Mujgan è sconvolta nel realizzare che potrebbe essersi messa in viaggio con un assassino spietato. Non sospetta Demir, ma piuttosto Fikret. Quando Batyar, dall'altra parte della linea, comprende che Mujgan è con suo cugino, la esorta a essere molto cauta, poiché sia lui che Fikret credono che Fikret sia il responsabile dell'incidente di Umit. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Confermando questa convinzione, Mujgan prende una decisione drastica. Decide di prendere suo figlio e fuggire di nascosto dall'albergo dove alloggiava con Fikret, lasciando il cugino e tornando a casa di Fekeli. Nel frattempo, mentre si trova in banca, Fikret scopre con sgomento di non avere più denaro disponibile sul conto, a causa dell'intervento di Fekeli, che lo ha lasciato senza fondi. Quando fa ritorno in albergo, Fikret è incredulo nel scoprire che Mujgan è fuggita con il figlio. A Kukurova, Fekeli e Lutfiye, fieri, entrano in casa e trovano Mujgan nel soggiorno. La dottoressa chiede perdono a Fekeli per essere partita senza salutarlo, ma lui, profondamente ferito, rifiuta di perdonarla. Successivamente, Mujgan rivela che Demir non può essere stato colui che ha spinto Umit, poiché lei stessa l'ha visto lasciare la casa dell'amica in buone condizioni quando è andata a salutarla. Mujgan è convinta che Demir non avrebbe potuto fare del male a Umit. Tuttavia, Mujgan inizia a dubitare della colpevolezza di Fikret quando Lutfiye conferma che suo nipote e la direttrice dell'ospedale erano una coppia. Questa rivelazione causa a Mujgan un profondo dolore. Fekeli, commosso dalla sua sofferenza, prova compassione per lei. Infine, i due sigillano la loro riconciliazione, chiudendo un capitolo turbolento nella loro storia. Poco dopo, Fikret torna a casa di Fekeli e si trova di fronte a una rottura definitiva con Mujgan. La dottoressa, esasperata dalle bugie di Fikret, decide di porre fine alla loro relazione. La mattina seguente, la vedova di Yilmaz incontra un medico appena arrivato dall'ospedale di Istanbul nel suo ufficio. Qualche giorno prima, le era stata offerta una posizione nell'unità pediatrica dell'ospedale, ma lei aveva rifiutato l'offerta. Ribadisce al medico la sua intenzione di continuare a lavorare presso l'ospedale di Adana, pur lasciando aperta la possibilità di cambiare idea in futuro. È notte fonda a casa di Fekeli quando Mujgan ascolta una telefonata tra Umit e Fikret. Spinta dalla curiosità, segue Fikret e li sorprende durante un incontro nei giardini dell'ospedale. Entrambi concordano di mettere da parte i loro sentimenti e continuare con il loro piano di vendetta contro Demir. Conscia che Fikret non cambierà mai, Mujgan prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Il giorno successivo comunica a Fekeli la sua intenzione di trasferirsi a Istanbul per accettare l'importante opportunità lavorativa che le è stata offerta. Fekeli, desideroso di vedere Mujgan felice e in armonia con il piccolo Kerem, la sostiene in questa nuova fase della sua vita. Lei chiede a Fekeli e Lutfi di prendersi cura di Kerem per tre giorni, finché non troverà una sistemazione e si stabilirà a Istanbul. D'altra parte, Ali offre a Mujgan di vivere nella sua casa di proprietà nella capitale, ma lei ringrazia e spiega che vuole farcela da sola. Nel frattempo, Fikret è completamente assorbito dalla sua vendetta, fino a quando non apprende che Mujgan sta per lasciare Kukurova per iniziare una nuova vita a Istanbul. Questa notizia lo colpisce profondamente, portandolo a riflettere sulle conseguenze delle sue azioni. Fikret, con un anello di fidanzamento in mano, è pronto a mettere da parte la vendetta e fare la proposta alla donna di cui è innamorato. Tuttavia, si rende conto che ormai è troppo tardi per loro. Nel frattempo, Mujgan si trova all'aeroporto, dove saluta commossa la sua famiglia prima di imbarcarsi per un volo diretto a Istanbul, in cerca di una vita migliore. Cosa farò senza il mio figlio per tre giorni? Non siamo mai stati così tanto tempo separati. Ti amo, piccolo mio, dice lei a Kerem, suo figlio, prima di dargli un ultimo bacio. La separazione tra Mujgan, Fekeli e Lutfiye è estremamente dolorosa, specialmente nel momento in cui deve dire addio a suo figlio. Il dottore bacia le mani di Kerem, dandogli il suo fazzoletto come ricordo, e poi guarda il figlio con un pensiero tenero, pregando per il suo viaggio sicuro e promettendo di ricongiungersi presto. Mujgan, seppur gravata dalla tristezza dell'addio, nutre la speranza di un futuro in cui saranno di nuovo insieme. Dopo il decollo dell'aereo da Adana verso Istanbul, Fikret arriva a casa dello zio e prova un senso di sollievo nel vedere che Kerem è al sicuro con loro. Lutfiye gli spiega che Mujgan tornerà tra pochi giorni per riportare il bambino con sé. In quel momento, Fikret assicura a suo zio di aver lasciato alle spalle odio e risentimento, e di desiderare solo rendere Mujgan felice, avendo compreso che l'amore è il sentimento più potente. Nonostante una certa iniziale resistenza, sia Fikret che Lutfiye accolgono con gioia la decisione di Fikret e promettono di sostenerlo affinché l'amore possa trionfare e Mujgan possa perdonare i suoi errori. Offri tutto il tuo amore e dimostra che sei privo di risentimento e odio. Sarò al tuo fianco, ti sosterrò, esprime Ali. Anche la zia lo incoraggia, dicendo Sarò al tuo fianco perché desidero la tua felicità. Ascoltando le parole di Fekeli, che con fermezza dichiara che se Fikret farà del male a Mujgan, dovrà vedersela con lui, Fikret giura di non tornare indietro. Mentre la famiglia gioisce per questa decisione, tutto cambia improvvisamente a causa di una terribile notizia alla radio. L'aereo su cui viaggiava Mujgan diretta a Istanbul è precipitato, e purtroppo non ci sono sopravvissuti. La madre di Kerem è morta insieme a tutti gli altri passeggeri. Un evento che colpisce duramente la famiglia Fekeli, in particolare nel momento in cui festeggiavano per l'intenzione di Fikret di chiedere a Mujgan di sposarlo al suo ritorno. Questa notizia sconvolge completamente il loro mondo. Tutti si chiedono cosa succederà ora al piccolo Kerem. Ci sono recriminazioni da parte di tutti per l'accaduto. Lutfi, che aveva contribuito all'organizzazione dell'assegnazione dell'incarico a Mujgan. Fekeli, che aveva dato il suo permesso. E Fikret, che l'aveva delusa e lasciata partire. La comunità è profondamente turbata dalla scomparsa improvvisa di Mujgan, ma nessuno è più colpito di Fikret. Emotivamente distrutto, condivide con Fekeli la sua convinzione che la vita di Mujgan sarebbe stata diversa se non si fosse mai incrociata con quella di Yilmaz. Riflettendo sulle proprie azioni, Fikret si sente in colpa per la morte di Mujgan e rimpiange amaramente di aver scelto la vendetta invece di coltivare l'amore che provava per lei. Fekeli, di fronte alla tragedia, non può fare altro che ricordare a Fikret quanto il destino sia incerto e come le persone tendano a valorizzare ciò che hanno solo quando lo perdono. La verità amara è che il destino ha seguito il suo corso e nessuno avrebbe potuto cambiarlo. Il giorno successivo, la comunità di Kukurova si unisce in un gesto di solidarietà intorno alla famiglia di Mujgan, la madre di Kerem, durante il triste momento del suo funerale. Fekeli e Fikret si occupano insieme della sepoltura della loro cara. La tristezza si diffonde nella città, perché, nonostante tutto, Mujgan era una figura molto amata e rispettata. Il dolore e il rimpianto pervadono l'atmosfera, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di coloro che le erano vicini. Questi eventi sottolineano una dolorosa realtà. Spesso, le persone non comprendono pienamente il valore di ciò che hanno finché non lo perdono. Con queste anticipazioni, il video si conclude. Per restare aggiornati e non perdere altri video, è invitato l'iscrizione al canale.